Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Parleremo dei fondi, 2 milioni di euro in arrivo per la ristrutturazione di Santa Maria in Vado, ma parleremo anche del giorno e vedremo le immagini del giorno del ricordo a Ferrara e anche a Vigarano. Ma in Arda si sono tenute delle cerimonie sia qui che in altri comuni del Ferrarese per ricordare le vittime delle foibe. Parleremo ovviamente di situazione coronavirus, la pressione ospedaliera rimane stabile sul nostro territorio, ma torneremo anche a parlare della vicenda che vede protagonista il vice sindaco di Ferrara, Nicola Lodi, che è stato, ricorderete, ieri è uscita la sentenza, la soluzione per il vice sindaco. Sentiremo gli avvocati che lo difendono, che hanno spiegato meglio cosa è successo in merito. Ma sentiremo anche però l'intervista a Sergio Castellizzo, che torna in scena dopo 20 anni e lo fa con uno spettacolo dedicato a Azzorro, questo è il titolo del suo spettacolo, che si terrà in teatro comunale a Ferrara e poi SPAL, conosceremo il neoquisto Vido che si è messo in mostra nell'ultima trasferta della SPAL contro il Pordenone, ma dobbiamo aprire con le scosse di terremoto che ieri sera hanno colpito l'Emilia, l'epicentro si è verificato in provincia di Reggio Emilia. Scopriamo e capiamo meglio cosa è successo la scorsa notte. Scosse di terremoto sono state avvertite nella serata di mercoledì 9 febbraio in Emilia. La prima di magnitudo 4.0 si è verificata alle 19.55, mentre la seconda di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 21. L'epicentro in entrambi i casi è avvenuto in provincia di Reggio Emilia, a seguire altre sei scosse di minore intensità per buona parte della notte. Le due scosse più forti sono state percepite in buona parte dell'Emilia Romagna. Il presidente della regione Stefano Bonaccini ha rassicurato i cittadini via social dicendo che da subito è stato aperto il centro operativo regionale CORE della protezione civile a Bologna e sono stati attivati quello di Modena a Marzaglia e di Reggio Emilia. Verifiche nella notte sono avvenute da parte della protezione civile e dei vigili del fuoco che non hanno segnalato alcun danno significativo a persone o strutture. Controlli anche a Cento, l'area ferrarese più vicina all'epicentro, con verifiche soprattutto nelle scuole del comune. Come riportato dal sindaco Edoardo Corsi, nessun edificio ha mostrato criticità o problematiche. Come anticipato sono in arrivo 2 milioni di euro dal Ministero della Cultura che fa capo al Ministro ferrarese Dario Franceschini, fondi che ristruttureranno la chiesa e parte del convento di Santa Maria in Vado a Ferrara. 2 milioni di euro destinati per interventi di recupero, completamento e restauro dell'apparato decorativo presente negli ambienti del convento di Santa Maria in Vado a Ferrara. Queste le risorse che fanno parte dei 3 milioni e 250 mila euro totali del finanziamento per i beni culturali dell'Emilia Romagna e quanto prevede il piano strategico Grandi Progetti I Beni Culturali varato dal Ministero della Cultura, che ha ricevuto il parere favorevole della conferenza unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Siamo molto soddisfatti per l'assegnazione di queste risorse, sottolinano il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e l'Assessore alla Cultura al Paesaggio della Regione Mauro Felicori e di questo ringraziano il Ministro della Cultura, il ferrarese Dario Franceschini. Tra i 38 progetti inseriti nel piano ministeriale, 3 riguardano il territorio emineano romagnolo, 1 a Punto Ferrara con Santa Maria in Vado. 750 mila euro serviranno per il restauro e la valorizzazione della Cattedrale di Piacenza e della collegiata di Castellarquato, sempre nel Piacentino e 500 mila euro serviranno per la realizzazione di un progetto innovativo al magazzino ferroviario Nord del Campo di Fossoli nel Modenese. E oggi a Ferrara, come in altri comuni estensi, si è celebrata la giornata del ricordo, celebrazioni per ricordare i massacri e le vittime delle foibe e l'esodo Giuliano Dalmat a fine Seconda Guerra Mondiale. Vediamo le immagini delle celebrazioni a Ferrara. Inaugurato le 10 di giovedì nel piazzale Poledrelli, il monumento ai martiri delle foibe, posizionato nel parco Giordano Bruno adiacente alle scuole, lo scoprimento del nuovo monumento nato dalla collaborazione tra Comune di Ferrara e Assoarma è stato il momento centrale del calendario di iniziative cittadine promosse all'insegna del giorno del ricordo, Istria, Fiume ed Almazia, ricordo di un esodo. Intervenute le autorità cittadine, tra cui il prefetto di Ferrara, Rinaldo Argentieri, il presidente di Assoarma, Ferrara, Raffaele Ghelfi, insieme ad altri rappresentanti dell'associazione che ha voluto e realizzato l'opera. Presente anche il presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia d'Almazia, Flavio Rabar, il generale Domenico Rossi, ex sottosegretario del Ministero della Difesa, lo studioso Giovanni Guarini, presidente dell'Istituto Nastra Azzurro di Gorizia, oltre alle autorità e rappresentanti delle associazioni degli studenti della classe Quinta A del Liceo Roiti. Nel pomeriggio, poi alle 16, nella sala dell'Arengo, in municipio, incontro degli esuli striani, fiumani ed almati di Ferrara con i loro familiari, alla presenza del prefetto e dell'assessore alla cultura del comune, Marco Gulinelli. Ma che significato ha questo nuovo monumento per Ferrara? Un monumento è un elemento carico di significati, stabile e duraturo, che vuole essere segno e presenza viva resistendo al tempo. Il ricordo di questa tragedia, per decenni soffocata, torna oggi e sempre. La solennità civile nazionale italiana è stata istituita nel 2004 e in questo 2022 compie 18 anni. Si fa la giorenne, ma quel dramma vive nel ricordo da decenni, un ricordo che a lungo è stato oscurato, tenuto nel cassetto, relegato in un angolo nascosto della storia. Ferrara è, e vuole continuare ad essere, parte attiva di questa riscoperta della memoria collettiva. Voglio ringraziare chi ha fatto di questa missione del ricordo un impegno civico e storico continuo. E anche Vigarano Mainarda ha celebrato il giorno del ricordo. Vediamo. Il comune di Vigarano Mainarda ha intitolato il parco della frazione di Borgo ai martiri delle foibe. Così nel Vigaranese è stato celebrato il giorno del ricordo. La cerimonia commemorativa per ricordare le vittime della strage dell'esodo degli striani, fiumani e dalmati si è tenuta nel primo pomeriggio quando erano presenti le autorità civili, militari e religiose. Il sindaco di Vigarano Mainarda, Davide Bergamini, ha deposto una targa commemorativa e una corona d'alloro. Nel secondo dopoguerra sembrava fosse terminato l'orrore, ma appena terminò il conflitto proseguirono le violenze e le persecuzioni, stavolta eseguite da un altro regime autoritario. Ha ricordato il primo cittadino nel suo discorso le vittime delle foibe e il dramma degli esuli striano dalmati, costretti ad abbandonare le loro terre, è sicuramente uno dei momenti più dolorosi della storia del nostro paese, ha spiegato il sindaco di Vigarano Mainarda, secondo cui le vittime di quella strage trovano un luogo ora della memoria, affinché resti vivo il bisogno di riflettere sui momenti cruciali della storia italiana. La memoria storica è necessaria al fine di evitare il ripetersi di periodi d'odio e conflitti, è stato detto dal sindaco in conclusione. Sanità adesso, il bollettino pandemico, rispetto al giorno precedente i dati suggeriscono una situazione stabile sul territorio ferrarese. Ecco il report. Pressione ospedaliera stabile sui nosocomi del territorio estense, 110 le persone ricoverate a Cona, 77 al Delta e 46 a 100, 11 le persone in rianimazione Covid nel ferrarese, 4 purtroppo i decessi, 3 donne e un uomo, tra i 74 e i 92 anni, di Argenta, Porto Maggiore, Vigarano Mainarda e 100. Intanto in 24 ore i nuovi guariti nel ferrarese continuano a superare i nuovi casi, 1178 i nuovi guariti e quasi 500 i nuovi positivi a livello regionale, ancora giù i ricoveri sia nei reparti Covid sia nelle terapie intensive, 43 purtroppo i decessi a livello regionale e nel bollettino si registrano anche quasi 15.000 guariti e circa 6.000 nuovi casi. Capitolo vaccini, somministrazioni stabili rispetto al giorno precedente, più di 1.500 le dosi somministrate mercoledì che hanno fatto salire a oltre 296.000 le prime dosi totali, 282.912 le seconde dosi e oltre 202.000 le terze dosi totali. e prosegue fino a lunedì prossimo anche a Ferrara l'attività messa in campo dai volontari della Fondazione Banco Farmaceutico con l'obiettivo di consegnare a livello nazionale medicinali ad oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone in difficoltà raccogliendo le donazioni di cittadini ed imprese a Ferrara le 11 farmacie comunali anche quest'anno hanno aderito all'iniziativa chiunque volesse partecipare può recarsi nella farmacia comunale di fiducia acquistare un farmaco e donarlo seguendo le indicazioni del personale o dei volontari presenti riconoscibili per la pettorina con lo speciale logo della campagna che vedete in questa foto. E ora cambiamo politica a distanza cambiamo argomento scusate parliamo di politica a distanza di 24 ore dalla soluzione del vice sindaco Nicola Lodi dall'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio oggi sentiamo le dichiarazioni degli avvocati Carlo Bergamasco e Ciriaco Minichiello rilasciate all'uscita dal tribunale ieri nella tarda mattinata. Dopo l'assoluzione del vice sindaco Nicola Lodi accusato di rivelazione di segreto d'ufficio ma scagionato dal gruppo Vartan Giacomelli in quanto il fatto non sussiste sono diverse le reazioni alla sentenza in primis da parte dei colleghi di maggioranza che hanno mostrato la propria vicinanza. All'uscita del tribunale gli avvocati Carlo Bergamasco e Ciriaco Minichiello in attesa delle motivazioni della sentenza hanno rilasciato dichiarazioni in merito a quanto accolto dal giudice. In questa vicenda l'esposto che ha dato origine al processo è un esposto manifestamente politico che denota la volontà di strumentalizzare il concetto di legalità per colpire l'avversario politico. Sia chiaro che non attribuisco questa intenzione se non a chi ha firmato quello esposto non certo alla procura che vi ricordo ha l'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale e che lo ha fatto nel pieno conformità delle prerogative tecniche e processuali che connotano la pubblica accusa. Chiaramente l'ipotesi accusatoria aveva un'implicazione laddove si contestava la propaganda politica come fini di ingiusto profitto non patrimoniale che ho ritenuto doveroso contrastare in quanto ritengo che come ho detto prima al di fuori delle ipotesi specificamente vietate di propaganda fascista o propaganda d'odio di odio razziale etnico religioso il pensiero politico sia sottratto al sindacato penale. Non esiste in giurisprudenza un caso similare a questo come parlavamo prima con un collega Bergamasco è un caso limite e tutta la giurisprudenza che è stata citata dal pubblico ministero ma anche da noi fa riferimento a casi che sono completamente diversi e che riguardano sostanzialmente il 326 primo comma cioè dati illegittimamente acquisiti. Cambiamo ancora argomento martedì scorso all'istituto Einaudi si è tenuta la presentazione dei corsi PON FSE che arricchiscono e completano l'offerta dei percorsi ad indirizzo servizi per la sanità e l'assistenza sociale nelle due curvature sport e inclusione e benessere e cura della persona durante l'incontro gli esperti hanno illustrato nel dettaglio i contenuti che affronteranno nei rispettivi corsi che si terranno appunto all'Einaudi e allo stesso tempo hanno tratteggiato il contesto generale delle professioni legate al mondo del benessere questi percorsi nascono da una collaborazione tra l'istituto e CNA appunto la branca benessere e sanità e ora parliamo di spettacolo con Sergio Castellitto che sarà a Ferrara dall'11 al 13 febbraio al teatro comunale porterà in scena Zorro sentiamo torna a Ferrara dopo 20 anni Sergio Castellitto dal romanzo Zorro un'eremita sul marciapiede di Margaret Mazzantini sarà al teatro comunale a Bado dall'11 al 13 febbraio il celebratore anticipa così il suo rientro nel palcoscenico estense sono molto felice di tornare su un palcoscenico dopo tanti anni e sono molto felice di farlo a Ferrara è una città alla quale io sono molto molto legato per tanti motivi e Zorro è la storia di un uomo la storia di un uomo che apparteneva come tutti noi alla normalità più o meno alla normalità della nostra società civile e che poi per una serie di circostanze perde tutto perde gli amici perde l'amore perde tutto meno che la propria dignità e ci racconterà questa storia una storia che però verrà raccontata con un codice non così doloroso ecco dove la tristezza la malinconia si mescoleranno anche alla clownerie della vita perché la vita può essere un dramma può essere una tragedia ma può essere anche una una commedia dove il comico dove il drammatico dove tanti elementi si mescolano più di quanto noi non immaginiamo più di quanto noi cerchiamo di fare perché questo non accada ma la vita è bella per questo e anche il teatro è bello per questo perché ogni segno diventa esplosivo parliamo ancora di eventi appuntamenti e parliamo di una scia di cuori rossi da seguire per festeggiare San Valentino all'insegna della beneficenza è il simbolo della quinta edizione della Love Walk la camminata dell'amore e della solidarietà organizzata da Fashion Eventi a sostegno della fondazione ADO l'appuntamento è per domenica 13 gennaio alle ore 10.30 in piazza Trento Trieste a Ferrara da dove partirà la camminata benefica non competitiva di 5 km sulle mura estensi il ricavato dell'evento definito romantico che gode del patrocinio del comune di Ferrara il ricavato sarà devoluto alla fondazione ADO che si occupa da anni di fornire cure palliative di elevata qualità le persone con patologie oncologiche o con altre patologie croniche evolutive in fase avanzata lo fa a domicilio oltre che in ambulatorio e in hospice prendendosi cura in modo globale del paziente e dei familiari ora parliamo di sport e di SPAL presentato oggi il neo acquisto bianco azzurro l'attaccante Luca Vido che si è già messo in mostra nella trasferta contro il Pordenone con un bel assist che ha alzo il gol del pareggio di Finotto quindi ne acquisto subito in campo ma oggi appunto è stato presentato dalla dirigenza tecnica e sportiva della SPAL allora sentiamo le sue prime parole in bianco azzurro sono davvero felice di essere qui appena mi si è mi è stata data la proposta di venire qui alla SPAL conoscendo la storia della squadra e soprattutto la volontà che c'è stata da parte del mister e del direttore e dei direttori non ci ho pensato un attimo ecco a Cremona si stava bene però sono sicuro che qui alla SPAL ci toglieremo tante soddisfazioni il mister comunque come ha detto il direttore mi conosceva mi ha allenato due anni praticamente quindi sapeva che magari avrei potuto iniziare già da subito nei suoi meccanismi nei suoi moduli sarei riuscito a capirli subito e a dare magari una mano senza dover aspettare più di tanto però penso anche che ci sia fiducia da parte da parte sua nei miei confronti e farò di tutto per ripagarla come per gli altri ragazzi a gennaio siamo contenti di avere Luca qui con noi è stato è un giocatore che abbiamo voluto fortemente insieme al direttore Giorgio e insieme al mister è sempre stato uno degli attaccanti che ci è piaciuto particolarmente fin da questa estate da quando facevamo un po' di ragionamento sugli attaccanti e oggi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi ha già giocato domenica ha dato il suo contributo nella partita di Pordenone e siamo convinti che ci può aiutare in questa seconda parte di stagione tantissimo lui è un giocatore che ha un grande talento è un giocatore che sa anche lui che può fare di più di quello che ha fatto fino adesso e speriamo di poterlo mettere nelle condizioni per per fare una buonissima stagione le qualità che noi cercavamo è un giocatore che io conosco da tantissimo tempo perché l'avevo visto ancora giocare quando era giovane nel Padova prima di andare al Milan è un giocatore di grande talento credo che l'abbia già dimostrato domenica Pordenone e noi ci aspettiamo molto da lui in termini di qualità di inventiva e mi auguro anche di gol con questo è tutto vi lascio alla programmazione di Telestense vi ricordo questa sera match del giovedì con una puntata speciale dedicata a San Valentino con questo è tutto vi ringrazio appunto e vi auguro una buona serata su Telestense grazie a tutti Grazie a tutti.